E la questione portiere a tenere il banco in casa Messina nel giorno della partenza per Matera. A 24 ore dalla sfida con l'11 di Padalino, l'enigma che arrovella l'ello di Napoli è proprio quello. A chi affida i pali della porta giallorossa al Franco Salerno? L'ipotesi Miguel Angel Martinez non è stata presa in considerazione neanche per un istante dal tecnico napoletano e non è un problema di transfert. È un talento, con ogni probabilità, pur essendo stati ingaggiati in vista della prossima stagione, già nel corso di questo campionato troverà prestissimo spazio, vista la straordinaria esplosività che anche nei primi allenamenti con i nuovi compagni ha palesato, ma l'opzione non è mai stata all'ordine del giorno. Per diverse ragioni, intanto per una questione di equilibrio all'interno dello spogliatoio ai quali lo staff tecnico ha tenuto molto sin dall'inizio di questa avventura. C'è poi da fare i conti con la delicatezza del momento, le tensioni che agitano lo spogliatoio, la severità del test che attende i biancoscudati. Un giovane di 21 anni arrivato appena 4 giorni fa da un altro paese potrebbe rischiare di bruciarsi. Insomma, non se n'è mai neanche parlato. Dunque ballottaggio tra Berardi ed Addario. L'estremo difensore calabrese prova a mostrarsi forte dopo l'ennesimo casa al centro del quale si è trovato innescata ancora una volta dalle improvvide leggerezze mediatiche del presidente Stracuzzi. Prova a mostrarsi forte, ma è evidente che a distanza di 48 ore è ancora visibilmente scosso. L'ammazzata è stata pesantissima. Ecco che, ora dopo ora, l'ipotesi di rivedere in porta Addario si fa più concreta. Probabilmente soltanto domattina l'Elo di Napoli deciderà. Come se non bastasse, si è immaterializzata nelle ultime ore per l'allenatore perolitano un'altra grana. Luca Martinelli, che ha scontato il turno di squalifica, deve fare i conti con un problema al tendine del ginocchio in pre-allarme per la sua sostituzione Mileto e Genni Russo. Una tegola che complica ulteriormente i piani del tecnico che deve fare i conti a Matera anche con le squalifiche di Baccolo e Fornito, che verranno sostituiti da Peppe Russo e Zanini. In avanti conferma scontata per il trenente straniero Gustavo Tavares Barisic.